Per la prima volta vengono riuniti in un'unica pubblicazione eventi sportivi di richiamo turistico, locali, nazionali e internazionali che si svolgeranno ad Arezzo. La brochure si chiama Un mondo di sport ed è stata curata dall'assessorato allo sport e alle politiche giovanili del comune di Arezzo. All'interno dell'opuscolo è possibile trovare il calendario completo delle manifestazioni sportive fino al prossimo 31 agosto. I ringraziamenti di Romizzi sono andati ai ragazzi del servizio civile che hanno contribuito alla realizzazione di questo lavoro. Oggi presento la brochure ma è un progetto più ampio, quello di sostenere le società sportive di questo comune che organizzano eventi nazionali e internazionali, dal takendo al calcio, passando per il tennis, il ciclismo, l'atletica leggera, insomma un territorio che offre numerosissime manifestazioni sportive che richiamano turisti in questa città, quindi un servizio alle società sportive di questo territorio che organizzano gli eventi e dall'altro lato la promozione turistica della città. Tra i progetti in cantiere c'è quello dell'apertura di una foresteria con 8 appartamenti e 16 camere per un totale di 96 posti letto dove saranno ospitati atleti e familiari. Accanto al nuovo stadio d'atletica che inaugureremo la prossima primavera sta finendo la realizzazione anche della foresteria dell'atleta, una struttura frutto di un project financing tra il comune e una serie di aziende private che quindi permetterà la nascita di una struttura appunto rivolta esclusivamente e prioritariamente al mondo sportivo e al mondo turistico sportivo, quindi un ulteriore servizio, uno dei pochi in Italia a dir la verità che lavorano in questa direzione. Grazie a tutti.